Allora, do il benvenuto a Joze Pirjevic, Università del Litorale di Capodistria, dove insegna storia. I suoi schweapunkt, posso dirlo così, sono appunto la storia balcanica e la storia della Mitteleuropa. E mi fa piacere rivederlo qui, dopo averlo incontrato a una tavola rotonda a Trento, appunto proprio sul tema della Mitteleuropa. Pirjevic è l'autore di una biografia di Tito che ha avuto una straordinaria, ha avuto e sta continuando ad avere, una straordinaria fortuna. E noi abbiamo la straordinaria fortuna di averlo qui con noi. Grazie tanto. Vi devo fare una breve introduzione storica per capire la situazione dei popoli di cui parlo. La prima guerra mondiale fu devastante per gli slavi meridionali, che ne furono immediati provocatori e insieme vittime. Il termine slavi meridionali abbraccia ben otto etnie diverse. Sloveni, croati, serbi, bosniaci di fede islamica, montenegrini, serbi, macedoni, bulgari, che hanno in comune, al di là dell'area geografica in cui vivono, una più o meno pronunciata parentela linguistica. Questa parentela fu vista nel corso dell'Ottocento da parecchi intellettuali come un mastice forte abbastanza da garantirne un'integrazione culturale e politica. Da tale illusione di matrice romantica, che non prendeva in dovuta considerazione le differenze culturali e religiose dei diversi soggetti etnici, né il loro rettaggio storico, nacque l'idea jugoslava, che diventò nel periodo precedente della prima guerra mondiale un vero spauracchio per le nazioni egemoni nella monarchia asburgica, i tedeschi e gli ungheresi. Essi erano intenzionati a conservare lo status quo nella Cislaetania e nella Translaetania, le due parti dell'impero e regno di Francesco Giuseppe, cozzando inevitabilmente contro le aspirazioni dei suoi sudditi sloveni, croati e serbi, che erano sempre meno disposti a tollerare la loro supremazia. Per molto tempo questi popoli speravano di poter creare nell'ambito della monarchia asburgica una terza entità statale, quella jugoslava appunto. Ma quando divenne evidente che le élite al potere a Vienna e a Budapest non erano disposte a fare concessioni, cominciarono a guardare con sempre maggiore speranza alla Serbia, il piccolo ma ambizioso regno balcanico, regno balcanico, punto. I suoi leader ambivano infatti di unire in un unico stato tutti i territori ancora soggetti al dominio turco o a quello asburgico che loro consideravano propri, anche la Macedonia, il Kosovo, la Bosnia-Herzegovina e parte della Dalmazia e della Croazia. In maniera meno precisa ma pure espressa in alcune occasioni pensavano addirittura di diventare una specie di Piemonte capace di raccogliere sotto lo scettro dei Karajorjevic tutti gli slavi meridionali, a cominciare dagli sloveni e dai croati. È evidente che questi progetti, accompagnati da fermenti anti-austriaci e anti-ungheresi che si stavano manifestando nei territori meridionali della duplice monarchia preoccuparono molto le autorità di Vienna e di Budapest. specialmente quando fra il 1912 e il 1913 la Serbia uscì vincitrice dalle guerre balcaniche prima contro la Turchia, poi contro la Bulgaria riuscendo a raddoppiare il proprio territorio. Ciò diede naturalmente ulteriore alimento al suo nazionalismo la cui espressione suprema fu l'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. Gli eventi successivi sono noti. La monarchia austro-ungarica appoggiata dalla Germania dichiarò guerra alla Serbia a difesa della quale si erse la Russia seguita dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Gli isiavi meridionali si trovarono a causa di questa reazione a catena a combattere gli uni contro gli altri. Gli sloveni, i croati, i serbi soggetti all'Iasburgo, i bosniaci sotto le bandiere imperiali e regge, i serbi sudditi dei Karajorjevic dall'altra parte della barricata. I primi furono mandati all'inizio della guerra sul fronte dell'Adrina, il fiume che separa la Bosnia dalla Serbia, e su quello russo. Ma poi, quando nel maggio del 1915, in seguito al pato segreto di Londra, con le potenze dell'intesa, anche l'Italia entrò nel conflitto su quello trentino e isontino. Quest'ultimo segmento del fronte, che si incuneava nella valata del isonzo, riguardava territori abitati in gran parte dagli sloveni. Per cui si può ben dire che insieme ai serbi essi pattirono le devastazioni della guerra più di tutti gli altri popoli jugoslavi. Per un certo periodo, la guerra affievolì le reciproche simpatie fra questi popoli, che erano espressione più che altro di un atteggiamento di opposizione contro Viena e Budapest, e non poggiavano su una vera conoscenza e solidarietà reciproca. Fra sloveni, croati, bosniaci da una parte e i serbi del regno di Karagiorgiovic dall'altra, esistevano differenze troppo marcate per favorire il formarsi di un qualche patriotismo comune. Perfino fra i serbi absburgici e i serbi del regno del regno c'erano poche simpatie reciproche. Ma anche fra sloveni, croati e bosniaci i rapporti erano assai pochi, essendo gli sloveni e i dalmati inseriti nella parte austriaca dell'impero, i croati soggetti al regno d'Ungheria. E i bosniaci governati da un condominio austriaco-ungherese. questa frammentazione conseguenza di un passato storico completamente diverso e autonomo si rispiecchiava anche nella vita culturale delle diverse etnie per cui se vogliamo parlare delle loro arti figurative dobbiamo per forza trattarle in maniera distinta. Nell'ambito sloveno o come faccio? Ah, questo, questo avanti. Sì? Andiamo avanti. Nell'ambito sloveno si era affermato alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento un gruppo di artisti che si ispiravano all'impressionismo creando delle opere di notevole spessore stilistico. Allo scopio della guerra questa generazione era troppo anziana per essere coinvolta dai fatti bellici non così la generazione più giovane i cui rappresentanti dovetero confrontarsi con la censura di guerra con i campi di concentramento l'arruolamento nell'esercito imperiale reggio e la prigionia in Russia il fronte isontino fu rappresentato da Ivan Vavpotich pittore per così dire cosa ha fatto? ho spento forse? ecco no, questo questo è questo l'abbiamo già visto è successivo eccola qua ecco allora da Vavpotich che era un pittore per così dire ufficiale c'era un Kriegsmaller incaricato dalle autorità militari a documentare gli eventi gli eventi bellici lo fece con notevole distacco intrecciando l'impressionismo col realismo come in questo melanconico ritratto di due soldati bosniaci bosniaci con il caratteristico fes rosso in testa in attesa di partire per il fronte a proposito i soldati bosniaci erano i più temuti dai soldati italiani per la loro ferocia dunque questi in attesa per partire il fronte o abbiamo spero di avere qui il gruppo di ufficiali italiani sì ecco questi sono invece gli ufficiali italiani prigionieri al castello di Lubiana emotivamente più espressiva è la crocifissione di Ianes della Carniola quadro che merita una spiegazione Janes Giovanni vennero infatti detti i soldati sloveni data la frequenza di questo nome il soggetto del martirio venne ispirato dal ammutinamento di un gruppo di questi militari organizzato nel 1917 a Judenburg in Styria austriaca e represso questa represa questa represso questo ammutinamento dalle autorità nel sangue la protesta contro la guerra non fu espressa soltanto in toni foschi ma anche con una certa ironia è il caso di Henrik Smrekar un noto illustratore e vignettista che pubblicò appena finito il conflitto una specie di diario satirico che comincia con la famosa frase ispirata a Napoleone nell'anno fatale 1914 anche Henrik Smrekar ebbe l'occasione di ricevere lo zaino in cui si nascondeva il bastone del maresciallo ovviamente Smrekar non divene mai maresciallo il testo è arricchito da una ricca serie di rapidi schizzi umoristici dedicati alle varie tappe della vita militare dalla visita di leva all'addestramento reclute alla vita in caserma mancano scene di battaglia forse perché non offrivano spunti di divertito e amaro commento la nostalgia di casa dei soldati al fronte è ampiamente illustrata dalle cartoline di Maxim Gaspari ispirate al folklore tradizionale in cui non mancano accenti patriotici come per esempio no questo è ancora Smrekar questo è Maxim Gaspari questo è appunto le sue cartoline famose dico questa questa è forse la più famosa come per esempio in questa cartolina ispirata ad una celebre orde all'isonzo di Simon Gregorjic il cosiddetto usignolo di Gorizia sacerdote e poeta che alla fine del ottocento aveva profetizzato lo scontro con gli italiani sulle rive di questo fiume pur odiando l'Austria gli sloveni parteciparono sul fronte isontino alla vicenda bellica con notevole impegno patriotico sentendosi minacciati dall'imperialismo italiano qui vedete appunto la silhouette del poeta che indica ai soldati le vie del cielo e li incita a combattere oltre ai soldati impegnati a contrastare le terribili offensive del generale Cadorna la guerra colpì in maniera particolarmente grave la popolazione civile dell'area costretta allo sfolamento nei campi di concentramento organizzati tanto in Italia che in Austria spero di avere qualcosa ecco questi sono appunto i fuggiaschi o meglio i profughi per concludere questa rapida rassegna di pittori sloveni al fronte vanno citati almeno due ancora Bojidar Iacaz che descrisse la vita militare con una serie di disegni realistici Iacaz diventerà più tardi nella seconda guerra mondiale il più importante diciamo così illustratore della lotta partigiana e il secondo invece Veno Pilon che ci ha tramandato un impressionante ricordo della sua prigionia in Russia con questi autoritrati satirici o ironici il primo si intitola Il Vileggiante a Lipetsk dove era appunto rinchiuso e con una scena e con scene di vuota vita nei campi prigionieri o con vedute della triste provincia russa come in Slovenia anche in Croazia gli anni che precedettero alla grande guerra furono segnati da una vigorosa attività artistica ispirata alla secession allo storicismo al realismo e al post impressionismo cui cominciarono a ribellarsi i giovani fra i quali si stavano affermando l'espressionismo il cubismo l'avanguardia russa e l'avanguardia russa fra coloro che parteciparono direttamente alle vicende abelica va citato Otton Ivecovich chiedo se c'è qualcosa di suo Otton Ivecovich sì esponente della vecchia guardia che vi partecipò da volontario per documentarla ma anche per esprimere la sua avversione all'Austria e Ungheria e Vilco Ghezan costretto a interrompere i suoi studi all'Accademia di Monaco essendo chiamato sotto le armi combatté sull'Isonzo ma cadde prigioniero dagli italiani già nel luglio del 1915 fu internato in un monastero di Monache dal quale portò a casa una ventina di disegni che andarono però perduti in seguito pubblicò ispirandosi a quell'esperienza un ciclo di litografie intitolato Prigionia in Sicilia che esprimono in modo più tragico ancora degli acquarelli di Pilon a mio avviso la desolazione di questi giovani condannati ad una vita sterile a una sterile inattività in un ambiente estraneo e ostile nel 1916 fu organizzato a Zagabria un salone primaverile in cui presentarono le proprie opere gli artisti più promettenti del momento che avrebbero arricchito la scena figurativa croata nel decennio successivo con i loro lavori stilisticamente assai audaci come per esempio lo zenitismo variante balcanica del costitivismo e del suprematismo russo nel 1916 tuttavia essi si espressero ancora secondo i canoni del espressionismo con tracce di cubismo come per esempio Marian Trapscher evitando però tematiche legate alla guerra in corso questo rifiuto degli orori della guerra sembra caratteristico anche per la pittura serba del periodo nessun popolo jugoslavo fu colpito dalla vicenda bellica così pesantemente come quello serbo esso fu il primo a subire l'aggressione austro-ungarica alla quale si oppose validamente fino al 1916 quando fu pesantemente sconfitto la serbia fu occupata dalle truppe straniere che la trattarono senza pietà secondo gli usi dei conquistatori mentre il suo esercito col re Pietro Karagiorgevic in testa dovete rifugiarsi in pieno inverno 1916 attraverso le montagne albanesi sulla costa albanese appunto dove venne soccorso dalla flota francese e italiana e fu trasportato in salvo a Corfu l'anno successivo esso riprese l'offensiva sul cosiddetto fronte di Salonico riuscendo a liberare Belgrado dopo battaglie sanguinosissime solo nell'ottobre del 1918 in questa immane tragedia fu coinvolta tutta una generazione di artisti che stavano appena scoprendo l'impressionismo dato il ritardo culturale della società serba rispetto all'Europa centrale ma anche rispetto alla Russia pre-revoluzionaria forse per questo ritardo questa generazione non seppe assumere un atteggiamento critico nei confronti della guerra come testimoniato dal volume di Ljubica Milkovic Light in the darkness of world war one the finest creations of the protagonists of impressionism in Serbia Serbia fra le pitture in esso raccolte si trova solo una che testimonia lo squalore di un esercito straccione come questo soldato serbo questo soldato serbo alla difesa di Belgrado del 1915 di Vladimir Besic notate le opanke cioè le caratteristiche ciabate contadine che questo poveraccio indossa in pieno inverno nel 1916 17 fu organizzato a Salonico dal comando supremo uno studio ufficiale di cui facevano parte alcuni pittori di talento c'erano anche dei kriegsmaller in Serbia incaricati a documentare gli eventi bellici ritrarre i suoi protagonisti la riorganizzazione dell'esercito e il formarsi del nuovo fronte ma sempre in modo piuttosto edulcorato ecco per esempio il ritratto che Milos Golubovic fece di un suo comilitone tra questi pittori soldati spicca però una donna Nadezhda Petrovic che si arruolò come crocerossina allo scoppio della guerra ma morì di tifo già nell'aprile del 1915 essa ci lasciò alcuni interessanti quadri legati alla vicenda bellica come per esempio il ritratto di questo canoniere questo qui del 1914 il contemporaneo ufficiale dai calzoni rossi come era d'uso nell'esercito francese o questo ospedale da campo a Valjevo dipinto poche settimane prima della sua morte quello che colpisce maggiormente è il fatto che i giovani artisti serbi coinvolti nella guerra più che documentare e denunciare le epiche sofferenze della propria nazione abbiano reagito ai suoi orori rifugiandosi in una pittura paesagistica addirittura idilliaca abbiamo così una serie di motivi di Corfu come questo olio su tela di Costa Milicevic o questa veduta di Capri di Milan Milovanovic dove l'autore fu inviato in covalescenza che non lasciano trappelare in alcun modo la grande tragedia in corso per concludere e dopo osservare che i pittori più significativi dei tre popoli jugoslavi presi in esame sloveni croati e serbi reagirono alla guerra in modo diverso esprimendo il diverso stadio di sviluppo culturale della propria società diversità questa che avrebbe condizionato pesantemente il regno dei serbi croati e sloveni proclamato il primo dicembre del 1918 grazie grazie infinite per questo contributo Pirjevic in un suo passaggio lo ha definito rapida rassegna sì forse rapida e di questa rapidità lo ringrazio molto perché ha tenuto veramente in modo perfetto i tempi ma rassegna interessantissima veramente di grande intensità devo dire quindi sono veramente molto grata dobbiamo essergli molto grati chi è che ha domande rapidissime per favore i tempi incalzano in questa vicenda del progetto Jugoslavia quando è importante la posizione della Russia prima della guerra e dopo la guerra nella formazione del prima della guerra per niente questi pittori praticamente studiano o a Parigi ma soprattutto a Monaco Monaco era un centro importantissimo soprattutto per gli sloveni e i croati per i serbi a Parigi ma anche a Viena e Praga ovviamente mentre dopo la guerra è importantissima perché irrompe proprio nello spazio Jugoslavo l'influenza del costruttivismo e dell'avanguardia russa e c'è effettivamente una esplosione di sperimentalismo anche assai audace direi non soltanto a livello figurativo ma anche letterario per cui ne abbiamo anche parlato prima con un collega questi popoli sono in ritardo rispetto all'Europa occidentale e rispondono in qualche maniera alla guerra in modo diverso dopo la guerra e invece rispondono in una maniera estremamente aggressiva e naturalmente io non ho parlato di quello che è successo negli eventi ma in maniera molto molto direi la denunciano in modo estremamente forte e comunque c'è un grande cambiamento sì c'è un grande cambiamento grazie volevo ricollegarmi al quadro di Becic sul soldato serbo del 1915 e lei professore richiamava l'attenzione sulle calzature no al cric ci sono gli atti della chiamata alle armi della popolazione del trentino e in questi atti viene detto sono i ditti viene detto espressamente che la popolazione maschile dovrà trovarsi radunata in piazza a una determinata ora munita di posate gamella mantello e calzature quindi la chiamata alle armi fatta appunto alla mobilitazione nel 14 dell'impero austro-ungarico già faceva comprendere come questo impero fosse nella necessità di chiedere un apporto come dire economico al singolo oltre che di un apporto di vita certo se posso commentare i trentini avevano almeno le scarpe questi qua non le avevano questo è il problema non avevano le scarpe ma anche i partigiani della seconda guerra mondiale non avevano le scarpe i bosniaci i serbi e così via per cui appunto combattevano praticamente a piedi nudi non avevano le scarpe